Signori Tides, film di fantascienza del 2021, al momento è su Sky o su Nao, che sia. Non è eccezionale, è un 7, 7 meno, è tanto 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 grigio e ci sono anche un paio di incongruenze non da poco. L'idea comunque è buona, sicuramente non è un film da tenere in collezione, però un'occhiatina gliela si può anche dare. Un saluto a tutti, se volete iscriverti al canale e se volete lasciate un like. Ciao ciao!